Ora Antonio De Mello si spiegherà la ricetta di questa sera, prego Antonio Dici i tuoi ingredienti segreti Antonio Vogliamo sapere tutte le arti segrete della tua cucina Piperone, che buddha Deliziosa Ancoglio, tempi di cottura per questa sera Dalle 8 alle 9, birra sarda Dalle 10 alle 11 Amaro sardo Programmi per fine serata? Molto un giro Eh, posso dire, se dentro va bene, se no mi faccio bugiare Se no, con mia cosa è sua Un po' con la sinistra, direttore è un problema E per D'Arieto lo saprò che abbiamo Per D'Arieto o pesce Sardo? Per forza, per forza L'ultimo saluto agli amici di Italia 1 E per la sinistra, direttore è un problema E per la sinistra, direttore è un problema E per la sinistra, direttore è un problema E per la sinistra, direttore è un problema